Ho studiato, cioè praticamente il test me l'hanno mandato fai giovedì, io gli ho detto ve lo mando lunedì e poi io ho preso ferie dal lavoro per studiare in nottata tutto quello che potevo assimilare su After Effects, scusa, Unreal, che è l'engine che usa nei videogiochi e gli ho dato questo test con anche una spiegazione tipo un pdf di otto pagine con la spiegazione di tutti i progetti logici che ho fatto per ottenere come un pdfx e gli è piaciuto perché alla fine mi ha mandato un lavoro e quindi poi da lì diciamo che è andata un po' più in discesa perché ho potuto specializzarmi, studiare e poi a un certo punto ho deciso di cambiare azienda, infatti adesso non lavoro più in quella e fare lighting Unreal da zero? Sì sì sì, mi ero anche messa a studiare Iudini, ovviamente Rai!